Allora a Manerbio siamo con Lucio Pozzani, è un cavaliere che conosciamo già da tanto, come è andata questa 35 che è appena finita? Allora ho fatto un piccolo errore con una cavalla che però ha 7 anni, una cavalla che ho da poco tempo, da circa un paio di mesi, sono molto contento perché sta effettivamente migliorando pian piano, devo mettermi un po' insieme, conoscerla, siamo a fine stagione, non volevo esagerare, non volevo farle fare troppe gare e adesso spero, finiremo magari anche la settimana prossima con qualche altra 35 per farla crescere un po' insieme. Senti, ti conoscono come il proprietario del cavallo più anziano che entra in gara, ci parli di lui? Allora il mio vecchio indien du Marais, faccio nel bianco, lo conoscono un po' tutti, gira nei concorsi nazionali in Italia e internazionali sempre in Italia, da ormai 10-11 anni con me, un cavallo che ho preso quando ero piccolo, piccolo, un po' più giovane di adesso e un cavallo con cui ho iniziato dalle gare un po' più basse, mi ha fatto prendere secondo grado, mi ha fatto fare un sacco di gare, sono cresciuto con lui davvero e adesso ho fatto l'ultimo anno credo di stagione, ha fatto il Gran Premio al Memorial e lì l'ho sentito un po' stanchino, quindi penso sia arrivato il momento di metterlo pian piano in pensione e spero che questa cavalla appunto che oggi ha fatto la 35 sia la cavalla che prenderà il suo posto, lo spero molto. Sei di Monti con Stefano Cesaretto che è un grandissimo istruttore, oltre a essere stato un grande cavaliere. Io sono in scuderia da lui da un sacco di anni, da più di 15 anni e adesso ho ripreso a montare fisso insomma sempre, tutti i giorni, un po' con lui che mi dà una mano, la terra è sempre fondamentale, un aiuto e penso che lui sia effettivamente uno dei tecnici più forti in assoluto e non soltanto in Italia, quindi sono abbastanza fortunato di averlo anche vicino a casa perché sono di Brescia. Ti tocca anche lavorare ogni tanto, no? Mi tocca anche lavorare, quando non monto, quando non sono in gara, per la sfortuna o fortuna di mio padre sono in azienda, l'azienda di famiglia di mio padre, qui a Brescia quindi riesco a organizzarmi abbastanza bene tra appuntamenti di lavoro e cavallo, allenamento e gara insomma. Per me tu complimenti, grazie. Grazie mille a voi, grazie. Grazie mille a voi, grazie. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi. Grazie per la visione!